E' un perfetto esempio di pittura veneta, la lavorazione dei pastori di Giorgio di Castelzianco. Ritroviamo la grotta come ambiente indicato dai Vangeli e che in questo particolare contesto culturale, simboleggia anche il mistero della nascita divina. Maria Giuseppe e dei pastori adoranti sono disposti a cerchio in Torre a Gesù, indicando una spazialità ampia e centrale. Anche qui, come in altre opere, il bambino è appoggiato sul manto della madre. In alto volano angeli fervini, mentre sulla sinistra si apre un presaggio, la più profondità è dovuta all'utilizzo sapiente del colore tonale. Sono da sottolineare a questo anche in dettaglio come la trasferenza dell'acqua e l'ombre colorate sul prato. La luce e il colore si accendono sulle vesti di Maria e Giuseppe, grazie all'uso del blu e dell'arancio, che risultano brillanti per le proprietà di complementari. La robbera adattabile a 1500-1505 è un olio sul tavola conservato alla National Academy di Washington. The iteration of the shepherd by Giorgione is a perfect example of the Malaysian school. In fact, the landscape on the left has a depth of table to use of common colors. Il colore di Pascua e Giorgione è un'ottima, che è in questo momento, che non è un'ottima, che è un'ottima, che è un'ottima, che è un'ottima e che è un'ottima. Il colore di Pascua e la Raviglia è un'ottima che è un'ottima che è un'ottima, che è un'ottima. Grazie per la visione!